Lo SPI CGL di Bergamo e della Valle Camonica ha raccolto poco più di 20.000 euro per contribuire alla ristrutturazione del Museo Rifugio della Malgalunga. È il dato emerso e comunicato dallo stesso sindacato in occasione della festa provinciale dello SPI svoltasi nei giorni scorsi a Chiuduno e da cui hanno preso parte tutte le delegazioni della provincia. Con essa si concludeva infatti la sottoscrizione a premi indetta dal sindacato per sostenere parte delle spese necessarie al Comitato Gestore della Malgalunga per ampliare la struttura al fine di ospitare così il nuovo Museo della Resistenza. Il motivo della collaborazione è da cercare nello stretto rapporto che da anni intercorre tra CGL Bergamasca e Bresciana ed i gestori del rifugio. Ogni anno infatti i suoi locali ospitano convegni tematici organizzati da entrambe le segreterie. Inoltre il sindacato riconosce nella sua presenza un'importante testimonianza della resistenza locale, un vero e proprio simbolo di cui non perdere memoria. I rappresentanti del sindacato si dicono dunque piuttosto soddisfatti della partecipazione massiccia alla sottoscrizione, i cui biglietti erano venduti ad un euro l'uno. I fondi sono stati consegnati direttamente ai membri del Comitato Gestore del Rifugio che a partire dai prossimi giorni li utilizzerà per sostenere parte degli interventi di ampliamento della Malgalunga. Grazie. 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 Grazie.